Un dramma annunciato, ora i vertici del calcere di Ariano si dimettano. Insorgono le organizzazioni sindacali della Polizia Petensiaria, che alcune settimane fa, in occasione della festa del Corpo, manifestarono incatenate all'esterno del calcere per protestare contro la mancanza di sicurezza nella quale lavorano gli agenti in servizio ad Ariano, l'organico sottostimato all'inadeguatezza delle strutture di detenzione. Un calcere in mano ai detenuti, sottolineano i vertici nazionali e regionali del SAP Donato Capece ed è migliore fattorello che insieme alle altre sigle sindacali, la Wilpa, la Sinappe, la FNS CISL, l'USP e CGL Funzione Pubblica, chiedono l'immediata sostituzione del direttore del calcere di Ariano Irpinò e del provveditore regionale. Da tempo, sostiene Leo Beneducci, segretario generale di OSAP, denunciamo in ascoltanti la mancanza di sicurezza legata a condizioni di adeguato trattamento dei reclusi e al rispetto delle regole. Lo stesso sindacalista chiede la rimozione del provveditore regionale, Giuseppe Martone. Chiediamo che venga sostituito come agenti, non possiamo essere picchiati, minacciati e sequestrati. Un dramma ampiamente previsto è che poteva trasformarsi in tragedie, aggiungono il segretario regionale Vincenzo Palmieri e il dirigente nazionale dell'OSAP, Maurizio Russo, che esprimono la loro solidarietà ai colleghi quotidianamente vittime di violenza. Il personale, avvertono Palmieri e Russo, è stato lasciato allo sbando e abbandonato a se stesso, eroi nel silenzio, umiliati e lasciati soli dallo Stato.